Ciao ragazzi, un saluto da Sossia Ruta. Settimanale nuovo, ho rilasciato un'intervista poco tempo fa. Mi hanno fatto questa domanda. Come vivi questi giorni di emergenza sanitaria? Io ho risposto, non so dove sbattere la testa. Continuo a vendere la frutta al supermercato, ma non posso sopravvivere così. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quando potrò portare avanti il mio progetto. Innanzitutto non mi sto lamentando, perché io un lavoro ce l'ho, qualcun altro, neanche quello. Non sto criticando chi lavora al supermercato, ma si evince che non ho chiesto aiuto a nessuno. Non sono disperato, non sono morto di fame. Quello che invece alcune pagine hanno voluto far credere, tipo messangero.it, notizie.it, dicendo che io so chiedendo aiuto, sono disperato, non posso andare avanti, che mi sto lamentando. Tutto falso, fake. Come l'80% delle notizie che sono sui social, tutte stronzate. E quindi partiranno denunce e querele, perché stanno danneggiando la mia persona, la mia immagine, perché ogni giorno ricevo messaggi a centinaia di offese gratuite alla mia persona, perché questa notizia è stata pompata anche aggiungendo una foto dove io sto piangendo. Una di queste foto l'hanno presa dal GF in un mio momento di commozione. Quindi poi ci siete voi cretini che andate a cliccare sopra questa notizia, facendo guadagnare dei soldi a queste pagine, dove poi leggete quello che è scritto qua. Ma il problema qual è? Che voi, leoni da tastiera e soprattutto voi pecore da tastiera, prendete spunto per insultarmi, per massacrarmi, per offendermi, per augurarmi tutto il male. Beh, mi sono rotto i coglioni. Partiranno anche per voi denunce e querele ad ogni offesa, perché mi sono stufato che qualcuno possa danneggiare la mia immagine, perché sono diventato un personaggio pubblico, mettendo in giro notizie false, quando meno pompando queste notizie. Io vi saluto e con molti di voi ci vedremo in tribunale. Un bacio da Sossio.